Siamo alle prese con la realizzazione del quadro di spazio ragazzi che quest'anno rappresenterà il ritorno dalla fuga in Egitto di Ludovico Carracci. Quest'anno il quadro è ricco di elementi scenici molto importanti e anche difficili nella loro realizzazione, come ad esempio la barca che è un elemento molto grande che occupa la maggior parte dello spazio. Una delle difficoltà è stata quella di voler simulare del movimento, nonostante il quadro di per sé, i personaggi e gli elementi siano immobili. Un'altra difficoltà è stata riguardo lo studio delle proporzioni appunto dei personaggi, in quanto l'artista li aveva dipinti in un modo non del tutto naturale. Quale sarà il risultato finale? Lo scoprirete domenica 5 agosto ad Avigliano. Grazie a tutti.